Una partita di nuovo dove abbiamo segnato tanto, dove abbiamo onestamente giocato come squadra in attacco, senza forzature, prendendo buoni tiri e come risultato sono percentuali prima di tutto da tre, ma di nuovo in difesa ci sono state le cose che dobbiamo per forza migliorare. Se prima della partita parliamo che transizione difensiva, dove sono veramente molto bravi, e rimbalzo difensivo sono due obiettivi più importanti, non possiamo concedere dicendo rimbalzi in attacco. Ma la differenza è stata di nuovo in attacco, dove abbiamo fatto veramente gioco di squadra. Complimenti per questa vittoria, dobbiamo essere consapevoli che ci sono tante cose, prima di tutto in difesa, che dobbiamo migliorare, ma onestamente sono più arrabbiato adesso di dopo Torino, solo per una cosa. Reazione, approccio mentale, deve essere ogni giorno con professionisti veri uguali. Non ne basta una partita per cambiare idea o cambiare discorso. nostra conferma sarà 100% se prossime partite ripetiamo gioco di squadra in attacco, Sassari, come si chiama, Vittoria, Stella Rossa, tutti questi avversari pericolosi dove sono partite molto strette. E durante la lamenti sicuro migliorare le cose che non stanno andando bene in difesa.